Una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 e profondita 10 km è stata registrata dagli NGV alle ore 4.11 in Calabria, nel Cosentino, con epicentro nella zona di Acri, comune dell'entroterra, equidistante dalle due coste, quella ionica e quella tirrenica della Calabria. Numerosi comuni in cui il sismo è stato distintamente avvertito, come quelli di San Demetrio Corone, Santa Sofia de Piro, San Cosmo Albanese e San Giorgio Albanese. Diverse le persone che si sono riversate sui social per cercare informazioni, per condividere la paura di essere stati svegliati nel cuore della notte. Alcuni parlano di un forte boato e di un sisma breve ma intenso, altri raccontano invece di una scossa lieve. Grazie a tutti.